Cari concittadini, un argomento importante che sta tenendo banco in questi giorni qui a Gricignano di Averse e non solo, è un problema comune a tutto l'ambito sociosanitario Cisera quale Gricignano appartiene, ed è il problema degli assegni di cura relativo all'anno 2019. C'è stato segnalato più volte da vari nostri concittadini percettori di questa misura di sostegno che praticamente per quanto riguarda l'anno 2019 l'ambito ha erogato soltanto una metà dell'anno, quindi soltanto sei mesi rispetto ai 12 previsti. Quindi c'è stato un po' di movimento da parte dei nostri concittadini, hanno fatto varie proteste sia al comune di Gricignano, anche se da noi in tutta onestà sanno bene che la questione non dipende dal comune di Gricignano sono venuti per chiedere spiegazioni e poi hanno fatto vari sit-in al comune di Averse. Bene, per farci parte di gente rispetto a questa questione io ho chiesto all'ambito una riunione qui al comune che si è tenuto appunto venerdì. È venuto il sindaco di Averse con l'assessore e vari sindaci appunto dell'ambito sociosanitario Cisei. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione, abbiamo cercato di capire il problema dove nasce, abbiamo accertato alcune responsabilità di questa problematica e stiamo cercando di trovare la soluzione almeno per l'anno 2019. Dico già che per quanto riguarda l'anno 2020 la Regione Campania ha mandato i fondi all'ambito che dovrebbe nei prossimi giorni iniziare già l'erogazione. Per quanto riguarda invece il 2019 purtroppo l'ambito non ha ricevuto dalla Regione l'intero importo, quindi ci stiamo facendo portavoce di questi nostri concittadini che hanno queste necessità e nei prossimi giorni andremo in Regione per cercare di ottenere la quota mancante rispetto al totale degli assegni di cura non erogati. Già la Regione ci ha fatto sapere che sulle economie potrà mettere in campo buona parte dei fondi mancanti, quindi su questa questione vi terremo aggiornati dopo la Regione in Regione.